Ciao ragazzi facciamo un giro con Kit Prima di presentarci vorrei informarti che sei uno dei pochi che ha l'onore di salire a bordo Quindi mani a posto e cerca di sporcare il meno possibile Io sono il Night Industries 2000, Kit per gli amici Ciao DJ Fabri, benvenuto a bordo Ciao Kit E' bello sentire la tua voce Grazie Hai davanti a te l'auto per eccellenza Tutte le altre sono solo inutili imitazioni Neanche fra trent'anni esisterà un prototipo al violinello Hai le cinture slacciate Oggi dove andiamo di bello? Andiamo al cinema Ma perché ci guardano tutti? Ma la gente di questo paese non ha mai visto i microfilme? Guardavano a Zab Che cosa hai da guardare? Non hai mai visto un'auto che parla? Mi raccomando Guardare ma non toccare Parli Parlare? Questa è la più semplice delle mie funzioni Posso fare molto ma molto di più Ad esempio potrei prosciugarti il conto in banca Se lo volessi Ma non è nel mio stile Quindi puoi stare tranquillo Metti un po' di musica DJ Fabri in console Stato di allerta Fabri sei connesso? Fabri ti prego di moderare la velocità Il mio turbo boost non è un giocattolo Quindi lo uso solo quando ce n'è veramente bisogno Non sono la giostra dell'una parte Ciao Fabri Buonanotte I sui sono gli da Grazie a tutti